Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Vado? Jack. Bravissima. Prontissima. Iniziamo. La clonazione. Quando c'è un clone, una persona uguale a te, tipo quelle macchine strane dove se ti invili dentro esce un clone, come quella dei film. Cioè c'è un soggetto che è uguale ad un altro, quindi due soggetti che si raddoppi, cioè c'è un soggetto che si raddoppia, quindi clonato, uguale, identico, vero? Può essere il cloro, qualcosa riguardo alla piscina. Quando qualcuno copia qualcosa a qualcun altro, cioè tipo la carta di credito. La clonazione è una tecnica di ingegneria genetica che prevede la clonazione dei geni del DNA per creare dei segmenti del DNA. Ma questa è quella genica, poi c'è la clonazione degli umani quando ne fai un'altra copia, però voleva essere più scientificamente precisa. il romanticone. Valentino Rossi, il romanticone. Schumacher? Dottore? Il razzo. Non lo so. Non, forse è freccia brossa, non lo so. Canarie, penisola iberica, penisola balcanica, Ibiza, Mykonos, Francia, Hong Kong, Favignana, isola delle femmine, Sicilia, Sardegna, Corsica, Pantelleria, Malta, Creta, Lipari, Canarie, Sicilia, Sardegna, Costa Azzurra, Thailandia è un'isola. La torre Eiffel addirittura sta in Francia, a Parigi, dove sta la Francia? Pagina l'Italia. Questa che è? La Sardegna, grazie, l'Ungheria. La torre Eiffel in Francia, quindi qua da qualche parte. Parigi, Francia, qui. Andrò stavo? Che carta, che mappa è, se non è questa. Parigi, qui. Un cerchio, come il cerchio perfetto di Giotto, perché io sono ossessionato dalla perfezione e dalla precisione. Questa sei te, quando sei incavolata, che c'ha i capelli tutti dritti, perché io ti faccio incavolare, no? Ok, guarda. Così, le sopraccine arrabbiate. Il triangolo, in genere il 3, è il numero perfetto, ma poi c'è l'angolo smussato che mi ricorda, cioè, che comunque ognuno di noi ha delle imperfezioni, nonostante ciò, siamo le persone che siamo, altrimenti saremo tutti uguali. che mi ricorda, che mi ricorda, che mi ricorda, sono le persone che mi ricorda. Grazie a tutti.